Interessante come hanno riportato la notizia lì delle dentiere con la minima Sono belle queste panchine così di alto design, no, bello o no? E' giù di qua, eh? 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 Andiamo qui direttamente poi E' giù di qua, eh? 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 Grazie Grazie E' la pizza in acqua, eh? Oh, il ferito è giusto. Ma che mi vuole? Eh, eh! Eh, che mi vuole! Eh, eh! 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 Come here, siam, ci be ne? Ci be ne? Ah, eh! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Sì Sì Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci devono aspettare i ammogli. Girati un po', giri. Giri, gira la faccione. No, giri. Eh, cosa vuoi vedere? Giri, giri. Io vedo il lago. Eh, perché ti spiace vedere il lago? No. Qui ci sono delle telecamere, no? C'è più gente, no? Che va? E quindi ci sono delle telecamere, no? Qui c'è più gente, no? Che va? No? E si mette fatti! Ecco. E ora... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Tu ti puoi scendere su. Come? Guarda quanti... Lo tieni anche tu i risultati.